Dovrà passare ancora un po' di tempo prima che la raccolta differenziata fili liscio, ma se è vero che la presenza di qualche disagio sia fisiologica quando si fa un cambiamento così radicale, è anche vero che bisogna fare qualcosa di più per dare un'immagine più dignitosa alla città di Modica, che nelle ultime settimane sembra essere ripiombata al caos in cui si trovava 5-6 anni fa. I social sono strapieni di foto e lamentele da parte dei cittadini che lamentano di non sapere come e dove conferire i rifiuti. Esiste online un sito che si chiama Modica si differenzia, il portale di riferimento di IGM rifiuti industriali per la raccolta dei rifiuti a Modica, dove esistono alcune indicazioni, ma bisogna tenere conto anche del fatto che non tutte le famiglie hanno un PC e che non tutti gli utenti sanno utilizzarlo. I vecchi cassonetti sono stati ritirati e molti utenti non sanno materialmente dove buttare la propria spazzatura. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, su tutto il territorio comunale, discarichi a cielo aperto e cassonetti stracolmi. Se poi aggiungiamo anche l'inciviltà di chi, anziché fare una telefonata, preferisce abbandonare rifiuti ingombranti a fianco dei cassonetti, il quadro è completo. Quello che serve è prima di ogni cosa maggiore informazione di massa, maggiore organizzazione, maggiore sensibilità da parte dei cittadini. Serviranno anche maggiori controlli e conseguenti sanzioni per chi, messo nelle condizioni di conferire regolarmente, non seguirà le regole. Modica ha un sistema di raccolta differenziata che è diversificato sul territorio, quindi ci sono le case sparse, queste case sparse che sono praticamente quelle zone di campagna nelle quali è più complicato organizzare un porta a porta perché le distanze sono molto notevoli. Per queste case sparse il progetto prevede le isole ecologiche, quindi dei cassoni grandi per carta cartone, plastiche indifferenziate, dei cassoni piccoli per vetro e umido. Questi cassoni sono dimensionati sulla base della popolazione. La zona di prossimità, che è tutta la zona di Modica Alta-Bassa, Modica Bassa, Dente e Via Tirella, fino al Ponte di San Giuliano orientativamente, è servita da un servizio di prossimità con la raccolta porta a porta del secco indifferenziato. Tutto il resto, quindi quello è un servizio porta a porta due volte alla settimana, tutto il resto viene conferito ai carrellati di prossimità, che ripeto sono stati dimensionati sulla base delle utenze servite. Altra zona è quella della sorda, che è quella leggermente più penalizzata perché sarà l'ultima come step a partire. In questa zona abbiamo un porta a porta spinto, quindi significa il porta a porta di tutte le frazioni merceologiche, compreso l'organico. Siccome in questo momento siamo in una fase di transizione, questa è la cosa più importante che voglio dire, siamo in una fase di transizione, non tutte le utenze sono state dotate dei mastelli che prevede il progetto. Quindi il passaggio che noi abbiamo intenzione di portare avanti è quello di dotare tutte le utenze e immediatamente dopo togliere tutti i cassonetti dell'indifferenziato dalla zona sorda e partire con il porta a porta spinto. Quello che chiediamo ai modicani è di avere un attimino di pazienza, di cercare di mettersi con la forma mentis e di differenziare. Differenziare è semplicissimo, se volete posso portarvi la mia esperienza personale. Io sono residente in una zona che è servita dalle case sparse. Ho una compostiera, per cui ho il mio sgravio sulla Tari. Ho i miei carrellati sotto il lavello, fra l'altro io ho un bambino di 18 mesi per cui siamo ancora con i pannolini. Butto l'indifferenziato una volta alla settimana pur avendo i pannolini. Il resto, carta e cartone, plastica, lattine, alluminio e vetro, li vado a stoccare temporaneamente in garage con dei sacconi grandi. Circa ogni 10 giorni prendo questi sacconi, li metto in macchina, vado al CCR mobile che invito tutti ad utilizzare, li peso con la testa sanitaria di mia moglie perché la Tari è in testa da mia moglie e a mia moglie vengono caricati dei punti. Alla fine, nell'anno successivo al conferimento, ci sarà uno sgravio Tari proporzionale ai chilogrammi conferiti al CCR mobile.